Il prossimo piatto pronto in un lampo è... Nudola al peperoncino, zenzero e lemongrass. Fate soffreggere la cipolla in olio di oliva. Aggiungete aglio, peperoncino e lasciate cuocere. Grattugiate dello zenzero. Poi prendete il lemongrass e battetelo con un coltello per far sprigionare l'aroma e il gusto agrumato. A questo punto mettete delle foglie di lime, cumino in polvere, coriandolo e curcuma. Poi aggiungete della crema di cocco, brodo di pollo, salsa di pesce e lasciate bollire. Immergete dei noodle di riso in acqua calda. Scolateli E metteteli nel piatto da portata. Versateci sopra la zuppa aromatica E completate con coriandolo fresco e peperoncino. Sulla vostra tavola in circa 20 minuti, noodle al peperoncino, zenzero e lemongrass. E un vero piatto di cucina rapida. Veloci, sani, deliziosi.